Ciao a tutti, sono Sara e queste sono le mie ricette no waste per l'alveare che dice sì. Oggi impariamo a produrre un olio aromatizzato utilizzando i rametti delle erbe aromatiche. Menta, timo, salvia, rosmarino e olio extravergine d'oliva. Cominciamo a pulire le erbe aromatiche. Mettiamo da parte i rametti. Una volta ottenuti i nostri rametti, dobbiamo metterli all'interno del barattolo. Versiamo l'olio a riempire il barattolo. Prendiamo il coperchio, lo chiudiamo, lo mettiamo in lavastoviglie a 70 gradi durante uno dei nostri lavaggi, in modo tale che le erbe tirino fuori tutti i loro sapori. Quest'olio è ottimo per condire le nostre grigliate di carne, di pesce, di verdure o anche le nostre insalate. Si conserva un mesetto. Prendiamo il coperchio, lo chiudiamo, lo chiudiamo, lo chiudiamo, lo chiudiamo. Grazie.